Musica Buon pomeriggio e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telebari. Apriamo il nostro telegiornale parlando di incidenti stradali. Sono più di 9.000 i sinistri con lesioni verificatisi in Puglia. Nel 2022 le vittime sono aumentate dell'11,3% rispetto all'anno precedente. Bari è la seconda provincia per numero di decessi e la statale 16 si conferma una delle arterie più pericolose da percorrere. Intanto la regione Puglia ha lanciato uno spot per sensibilizzare i più giovani a rispetto del codice della strada. Vediamo. Purtroppo dal report che ci accingiamo a presentare dobbiamo purtroppo anche quest'anno dire che il numero di incidenti è aumentato rispetto al 2021. Nel 2022 si sono registrati più di 9.000 incidenti e più di 200 vittime. Continuano a crescere gli incidenti stradali in Puglia e quando emerge dal rapporto regionale 2022 redatto dall'Asset sono stati 9.286 i sinistri registrati sulle strade pugliesi che hanno provocato 226 vittime, 25 delle quali erano pedoni e 14.256 feriti. In media ogni giorno in Puglia si verificano 25 incidenti stradali con lesioni, numeri in crescita rispetto al 2021 con un più 5,2% di incidenti mortali e un aumento delle vittime pari all'11,3%. Il maggior numero di incidenti si è verificato in provincia di Bari con una percentuale del 36,2% mentre la provincia di Foggia detiene la maglia nera della mortalità con 60 vittime registrate in 365 giorni. Il rapporto evidenzia come il maggior numero di incidenti si sia verificato nei mesi di maggio, luglio e settembre, mentre la domenica, il giorno della settimana con il maggior numero di decessi, ben 48 in un anno, tra le strade più incidentate della Puglia spicca la statale 16 con 212 incidenti registrati di cui 8 mortali, segue la statale 96 con 66 sinistri. Il dato più eclatante sono gli incidenti che hanno coinvolto la fascia d'età dai 45 ai 64 anni che sono i conducenti più esperti e quindi sono quelli che probabilmente considerano di avere la possibilità di poter guidare in maniera più tranquilla. Abbiamo come cause di incidentalità la distrazione e l'eccesso di velocità, sulle strade provinciali e sulle strade statali fuori dall'abitato si sono registrati il maggior numero di morti. La regione Puglia ha lanciato uno spot di comunicazione per sensibilizzare soprattutto i più giovani al rispetto del codice della strada, le immagini andranno in onda in tv e sul web per i prossimi tre mesi. E noi passiamo alla cronaca, i carabinieri hanno arrestato, 82 persone per spaccio di droga a Foggia, i clan della città operavano fianco a fianco smerciando circa 50 mila dosi di cocaina al mese. Durante la conferenza è intervenuto a Bari Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia. Chiudere le faide sanguinarie e operare insieme istituendo perfino una cassa comune è il dato più eclatante che emerge dall'operazione Game Over, eseguita dai carabinieri del comando provinciale di Foggia che ha portato all'arresto di 82 persone, tutti operanti nel capoluogo Dauno. I clan Moretti-Pellegrino-Lanza, Sinesi-Francaviglia e Triscuoglio-Prencipe-Tolonese gestivano fianco a fianco lo spaccio di droga in città smerciando circa 50 mila dosi di cocaina al mese, numeri imponenti che portavano nelle casse delle famiglie circa 200 mila euro di utili al mese. La società avrebbe imposto l'obbligo di mettere nel circuito cittadino cocaina fornita dal cartello al prezzo di 55 euro al grammo, più alto rispetto ai 48 euro applicato da spacciatori che non facevano parte del sodalizio. A colpire gli inquirenti è stato il modello consociativo sviluppato dalla società foggiana. Ogni spacciatore era inserito in una lista, era presente un direttorio che forniva le regole da seguire, modalità lontane dalle organizzazioni mafiose del passato che garantivano attività di spaccio difficili da disarticolare. L'operazione, partita dall'omicidio di Roberto Rizzano nel 2016, ha potuto beneficiare dell'apporto di due collaboratori di giustizia. Secondo Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, la partita tra lo Stato e la mafia foggiana è tutt'altro che chiusa. Ma dal mio punto di vista stridere di più con l'idea che la partita sia davvero finita, anzi la partita è soltanto appena iniziata con la criminalità foggiana, in particolare con la società foggiana che è l'organizzazione mafiosa al centro di questa indagine e che qui si rivela in tutta la sua dimensione anche di complessità, di un sistema estremamente sofisticato di organizzazione delle energie, delle diverse battevie che compongono la società foggiana. Ed è arrivato il momento di collegarci con il nostro sito web www.telebari.it con il nostro Tiziano Tridente. Tiziano, ben ritrovato, vengo da te. Sì, eccoci Giuseppe, cronaca in primo piano anche sul nostro sito internet con il blitz della polizia in una casa di Barivecchia dove un uomo di 35 anni con precedenti penali è stato arrestato per detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di munizionamento. Per armi comuni da sparo il 35enne usava l'appartamento come deposito della droga da spacciare poi al dettaglio nelle strade del Borgo Antico. I poliziotti hanno così trovato e sequestrato oltre 7,5 kg di marihuana, 400 g di hashish e 350 g di cocaina, più 248 cartucce di vario calibro e la somma contante di 3.300 euro. Cambiamo argomento con il caldo record di questi giorni, sempre grande protagonista sulle pagine del nostro sito. Temperatura roventi con 45 gradi percepiti, tempeste di calore e notti di gran caldo per 48 ore ancora, assicura il colonnello Vito Antonio Laricchia. La vera notizia però è che a partire dalla tarda mattinata di mercoledì torna l'amico maestrale, ha spiegato il colonnello. Noi di Telebari le temperature così scenderanno, assicura l'esperto, e arriveranno a un massimo di 35 gradi. Chiudiamo con un altro ritorno, oltre all'atteso maestrale, quello della ruota panoramica sul lungomare di Bari, ancora in largo Giannella, dove questa mattina sono cominciate le operazioni di montaggio. Entro venerdì, fanno sapere da Palazzo di Città, dovrebbe essere tutto pronto, con ogni probabilità quindi a partire dal prossimo weekend, l'ultimo di luglio quindi, sarà possibile ammirare nuovamente il lungomare di Bari, da un'altezza mozzafiato. La nuova ruota panoramica sarà alta a 45 metri e resterà in città per sei mesi. A te. Grazie Tiziano, e noi andiamo avanti, proseguiamo con una notizia di Cronac. Questa notte è stato rinvenuto un corpo carbonizzato nel parcheggio del centro commerciale di Santa Caterina. Sono in corso le indagini per capire le cause del ruogo e per cercare di identificare il cadavere. Ce ne parla Maricla Pastore. Il corpo carbonizzato di una persona, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato trovato alle tre della scorsa notte all'interno di una minicar elettrica in fiamme, in sosta nel parcheggio di un centro commerciale di Bari, in zona Santa Caterina. A rinvenire il cadavere, i vigili del fuoco, intervenuti per spegnere l'incendio del veicolo, che stava iniziando a propagarsi nelle sterpaglie adiacenti e di cui, sull'asfalto, rimangono solo un ingranaggio e residui di plastica fusa. In seguito alla prima ispezione cadaverica, non è stato possibile stabilire con certezza età ed etnia della vittima, a causa dell'avanzato stato di carbonizzazione. Saranno perciò necessari anche esami antropologici, e domani sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Il ruogo, secondo i primi accertamenti, sarebbe partito per cause accidentali. Tuttavia, sono ancora in corso le indagini degli agenti della squadra mobile della Questura di Bari, che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell'ipermercato. E noi apriamo la pagina politica, perché prosegue la mobilitazione di Forza Italia Bari contro la tassa di soggiorno. Oggi, nella sede cittadina del partito, sono stati illustrati dieci motivi per cui dire no e presentare alcune alternative. Ma è stata anche un'occasione per introdurre i rappresentanti dei movimenti politici e liste civiche in vista delle comunali dell'anno prossimo. Vediamo. Dieci motivi per dire no alla tassa di soggiorno. Alcuni degli esponenti cittadini di Forza Italia si sono riuniti nella sede di Bari per ribadire ancora una volta la propria contrarietà nei confronti di quello che, nel decalogo, viene definito anche come l'ennesimo balzello medievale che disincentiva il turismo e che, a meno di dietrofront da parte dell'amministrazione, entrerà in vigore nei prossimi mesi nelle strutture ricettive del capoluogo pugliese. È un incontro per ribadire l'assurdità di una gabbella messa in zona Cesarini a pochi mesi dalla chiusura del mandato di un sindaco che non si potrà più ricandidare. Una penalizzazione nei confronti degli operatori turistici come se si volesse punire una città che sta dimostrando di essere capace di fare un turismo finalmente stabile, inspiegabile. Soltanto mille comuni su 8 mila hanno questa tassa di soggiorno, penalizza il turismo, l'iniziativa. D'altronde, con una caratteristica che questi 2 milioni e mezzo di euro non si capisce dove vanno a finire. Nelle casse del comune, ma neanche una finalizzazione sul turismo sarebbe stata quantomeno opportuno dire che queste somme sono poi destinate a potenziare le strutture turistiche, a consentire investimenti, assolutamente no. L'incontro è stato anche un'occasione per presentare le associazioni e le liste civiche di centrodestra in vista delle comunali del prossimo anno. Sapete tutto che la mia storia è Forza Italia. Io oggi sono qua con grande gioia, ho racconto l'invito di Francesco Paolo Sisto, c'è unità di intenti, la volontà è ci accomuna, è quella di riprendere la città e di tornare a governare questa città. Consentitemelo di dire con entusiasmo, con una gran voglia di fare, così come abbiamo già fatto nel passato, abbiamo dimostrato di fare attraverso il piano urbano. Oggi abbiamo i turisti a Bari, se mi consentite, perché abbiamo riqualificato la città vecchia, abbiamo riqualificato una serie di aree della città di Bari che hanno interessato non poco il turismo. Consentitemi anche di dire che lo sviluppo aeroportuale è uno sviluppo che nasce col centrodestra. E noi passiamo alla pagina degli spettacoli e parliamo del Festival Chiostri e Inchiostri che si terrà a Noci dal 28 al 30 luglio. Stamattina la presentazione è la seguita per noi, Alessandra Bucci. Noci dal 28 al 30 luglio si trasforma in palcoscenico della cultura libraria, pugliese e nazionale con la quarta edizione del Festival Chiostri e Inchiostri che si svolgerà in sei luoghi del Centro Storico. Un programma ricco con più di 150 ospiti e 90 incontri suddivisi in tre serie di mezza estate tra interviste, talk tematici, conversazioni e presentazione di libri. Mi sembra importantissimo che in questo Festival si facciano sia dei forum tematici sull'intelligenza artificiale, sull'ambiente, argomenti di scottante attualità ma anche di innovazione per fare riflettere le persone sulle possibili conseguenze di una scelta in un senso o nell'altro. Quando si parla di ambiente, quando si parla di intelligenza artificiale sappiamo che tocchiamo tasti importantissimi che sono proprio i diritti soggettivi delle persone. Focus speciale di quest'anno i temi dell'ambiente e dell'intelligenza artificiale. È un festival che guarda molto alla contemporaneità, la contemporaneità che poi raggiunge anche la provincia, i centri minori e Noci appunto si candida a questo ruolo. Lo facciamo con grande piacere perché riproponiamo anche attraverso i forum tematici argomenti importanti come ad esempio un approfondimento sul bene e sul male dell'intelligenza artificiale ma anche sull'imprenditoria locale, sulla innovazione nel settore della moda e una grande attenzione anche alla letteratura di infanzia per i ragazzi. Adesso passiamo alla pagina sportiva perché prosegue il ritiro del Bari a Roccaraso. vedo collegato Cristian Siciliani con noi. Cristian buongiorno, quali sono le ultime novità? Sì, buona giornata da Roccaraso. Una giornata completamente libera per il gruppo Biancorosso dopo l'amichevole di ieri vinta per 5-0 contro il Delfino Curi Pescari. Atteso in questi minuti anche il presidente del Bari Luigi De Laurentiis che tornerà qui in ritiro a seguire la squadra a prepararsi alla prossima stagione. Lo farà anche in serata il direttore sportivo Ciro Polito perché il mercato è sempre un argomento di discussione. In giornata ci sarà un nuovo incontro con il procuratore del portiere brasiliano Brenno, classe 99, il portiere individuato per sostituire Elia Caprile che giungerà in Italia e dunque avrà un confronto decisivo per dare un impulso a questa trattativa con Brenno che di fatto diventerà il nuovo portiere Biancorosso. La squadra si ritroverà domani ad allenarsi qui al campo comunale di Roccaraso alle 10 del mattino. Chiaramente si chiuderà questa fase di ritiro venerdì con l'amichevole più probante di questo inizio di stagione contro la Juve Stabia alle 17.30. Questa amichevole la trasmetteremo sempre in diretta su Telebari e i nostri canali social studio. E allora grazie a Cristian Siciliani è arrivato il momento di passare alle notizie provenienti dall'area metropolitana di Bari e dalle altre province. Partiamo da Taranto dove questa mattina sono arrivati 171 migranti salvati dallo staff di emergency nel Mediterraneo. Ce ne parla Angelo Ingenito. La motonave life support di emergency ha traccato al porto di Taranto questa mattina alle 7 e sono tuttora in corso le operazioni di sbarco di 171 delle 184 persone soccorse tra la notte di giovedì e la mattina di venerdì in quattro interventi effettuati in acque internazionali nelle aree di ricerca e soccorso maltese. Delle 184 persone soccorse 26 sono donne di cui due in centa. 13 dei 184 naufraghi sono stati fatti sbarcare ieri a Lampedusa per motivi sanitari. Per il resto non ci sono particolari situazioni critiche ma molti dei naufraghi raccontano di abusi subiti in Tunisia e Libia e molti di loro portano sulla pelle i segni dei pestaggi e dei maltrattamenti così come ci hanno riferito Carlo Masano capo missione e Paola Tagliabue responsabile medico di life support. Le condizioni di emigranti all'imbarco direi pessime hanno riferito di violenze in Tunisia e in Libia e abbiamo trovato il primo barcone dopo tante ore, erano da più di 30 ore in mare. Quindi potete immaginare un barcone sovraffollato con persone a bordo che non hanno possibilità di movimento dopo tante ore. Cosa si può aspettare da un barcone così delle persone che sono stremate? Ci sono bambini e abbiamo sbarcato alcuni di loro a Lampedusa come ci è stato richiesto. Alcuni sono rimasti a bordo, ci sono minori non accompagnati che stanno sbarcando in questo momento di otto anni, quindi molto piccoli. Donne incinta sicuramente sì, soprattutto una ragazza che ci ha riferito violenze tremende. La 28enne camerunense che ha subito violenze nel deserto è stata sbarcata questa mattina qui a Taranto, mentre la donna al settimo mese l'abbiamo sbarcata a Lampedusa. I minori sono tutti in buona salute, alcuni di loro sono molto provati dal punto di vista psicologico, spaventati per tutto quello che li aspetta e quello che hanno subito. E noi ci spostiamo ad Alberobello dove è stato inaugurato il Light Festival. Ospite e madrina d'eccezione, il premio Oscar Ellen Mirren. Ce ne parla Francesco Russo. C'è tempo fino a domenica 30 luglio per immergersi nelle suggestioni luminose dell'Alberobello Light Festival, l'evento di comunità giunto alla quinta edizione che valorizza il patrimonio dei trulli con installazioni di artisti locali, nazionali e internazionali selezionati dall'amministrazione comunale con il coordinamento di LIFE. Alberobello è ritornato in gran forma, tanti eventi che si stanno susseguendo. Ritorna il Light Festival dopo l'interruzione creativa purtroppo che non ha potuto nel periodo del Covid, l'anno scorso l'abbiamo fatta con un'edizione che ripeteva alcune bellissime opere. Quindi ecco questo è un nuovo slancio. Quest'anno il Light Festival si pone come obiettivo principale quello dell'esaltazione della bellezza di Alberobello, quindi la valorizzazione del patrimonio UNESCO, la prima installazione con l'intelligenza artificiale che va a rimodulare quelle che sono le forme neoclassiche della Basilica dei Santi Medici. 70 mila euro i fondi impiegati attingendo ai finanziamenti UNESCO, legno, cartapesta e materiali sostenibili arricchiscono i vicoli e le piazze della città dei trulli per ripercornerne la storia e per immaginarne il futuro. A tagliare il nastro della manifestazione l'attrice premio Oscar a cittadina pugliese in prima linea per il contrasto alla xylella Ellen Mirren. E' molto importante che il resto del mondo sape che viene qui e questa viene qui. E' un'enorme tragedia questa bellissima parte dell'Italia e del mondo non può essere distrutta così. E noi ora ci spostiamo a Barletta dove durante l'evento al castello della Warner Bros a farla da padroni sono stati i fornitori della rete che sempre di più investono in Puglia. Ce ne parla Massimo Pillera. Possiamo dire che oggi i venditori di internet sono come i panificatori di un tempo? Perché chi non ha internet non può vivere ormai. Beh sicuramente oggi internet è un bene di prima necessità come l'elettricità, il gas, l'acqua e così esiste la fibra pura FTTH che è l'unica che Virgin Fibra ad oggi è in grado di offrire a quasi 19 milioni di case in Italia e soltanto tra Bari e la provincia di Bat è disponibile ad oggi Virgin Fibra per oltre un milione di abitazioni. Sicuramente internet oggi è un bene fondamentale che ci aiuta a navigare veloce, a guardare in streaming tutti i contenuti di cui siamo appassionati, a giocare, a lavorare da casa perché sempre di più questa è una necessità e noi sicuramente di Virgin Fibra vogliamo venire incontro alle esigenze degli italiani e dei pugliesi con il nostro servizio di altissima qualità. Come si fa a competere con i grandi colossi e le grandi multinazionali della fibra, della rete che oggi sono in giro qui? Guardi è molto semplice, si fa mettendo al centro soprattutto e prima di tutto le esigenze delle persone vere, del consumatore finale. È per questo che Virgin Fibra si impegna a garantire tra le altre promesse che facciamo ai nostri clienti e che manteniamo ovviamente ogni giorno un servizio realmente senza vincoli. Vuol dire che il consumatore è libero di disdire Virgin Fibra in ogni momento senza pagare penali, senza i fastidiosissimi soliti costi nascosti negli asterischi delle bollette che ben sappiamo essere una pratica spiacevole per le persone ma molto molto frequente con tanti appunto colossi del mondo delle telecomunicazioni. Domenica di sangue sulle strade della provincia di Foggia, a Borgo Tressanti, quattro persone sono morte in un terribile scontro. A Vieste una ragazza è stata travolta mentre era a bordo del suo motorino, ce ne parla Nicola Saracino. È stata una domenica di sangue sulle strade di Capitanata. Un incidente mortale si è registrato ieri a tarda sera nelle campagne nei pressi di Borgo Tressanti dove per cause ancora da accertare un'auto e un motorino si sono scontrati violentemente provocando la morte di quattro persone tra cui due bambine di 7 e 10 anni, la mamma delle sorelline e la persona che era la guida dello scooter. Secondo una prima ricostruzione, l'automobile occupata dalla famiglia originaria del Mali ha investito il motorino sul quale viaggiava un loro connazionale. Tre i feriti, il marito della donna e altri due figli della coppia che sono stati trasportati in ospedale. A Vieste invece una ragazza minorenne è stata travolta da un'auto mentre era a bordo di un motorino e stava rientrando a casa dopo una notte trascossa fuori. Soccorsa dagli operatori sanitari del 118 di Vieste è stata trasportata in codice rosso a casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo a bordo di un ali soccorso. Infine sul tratto autostradale tra Appoggio Imperiale e San Severo c'è stato un incidente stamane all'alba tra un camper con a bordo una famiglia in vacanza e un'auto che nell'impatto si è ribaltata. Feriti entrambi i conducenti, illesi mamma e figlio di 6 anni a bordo del caravan. A tutti un buon proseguimento di giornata. Amici tra i bimeteo bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì che attenzione vedrà alta pressione e temperature molto alte al centro sud invece il nord deve fare i conti con sistemi nuvolosi atlantici temporali anche di forte intensità. Contrava nuvolosità a terra sull'Italia e vedete il nord è attraversato da questi sistemi nuvolosi che lambiscono anche l'Italia centrale e come precipitazione questa è la cosa più importante temporali anche forti sulle regioni settentrionali ma localmente anche Levante Ligure alta Toscana invece nel resto del paese ripeto situazione tranquilla ma temperature molto alte quindi in definitiva martedì bollente al centro sud in Sicilia potremo superare i 45 gradi all'ombra per fortuna vi anticipo tra mercoledì e giovedì al centro sud arrivare più fresca. Il nord invece temporali che potrebbero coinvolgere anche vi dicevo la media alta Toscana e temporali che localmente in giornata saranno anche forti magari di breve durata ma si rischiano nuovamente grandinate impressionanti e raffiche di venti improvvise. Per rimanere quindi ben aggiornati su cosa capiterà da voi consultate l'app di Trebi Meteo.